Costruire muri non è una soluzione, dobbiamo fare punti. L'Europa deve urgentemente fare politiche di accoglienza e integrazione, di crescita, di lavoro, di riforma dell'economia. Dopo la visita lampo compiuta sull'isola greca di Lesbo, Papa Francesco ha risposto alle domande dei giornalisti presenti sul volo, approfondendo alcuni aspetti dell'appuntamento, che ha avuto un carattere umanitario ed è stato molto forte. Alle parole il Pontefice ha voluto anche dare un segno concreto. Con il suo stesso aereo, infatti, ha accompagnato tre famiglie di rifugiati dalla Siria, 12 persone in tutto, di cui sei minori. Si tratta di persone che erano già presenti nei campi di accoglienza di Lesbo prima dell'accordo fra Unione Europea e Turchia e che ora, dopo una trattativa della segretaria di Stato con le autorità competenti greche e italiane, saranno ospiti del Vaticano con l'aiuto della comunità di Sant'Egidio. Papa Bergoglio ha raccontato le emozioni che hanno scandito la visita, soprattutto nel campo profughi di Moria, commozione e dolore, in special modo per i bambini. Mostrando i disegni ricevuti in dono dai piccoli, il Pontefice ha rimarcato che essi vogliono la pace e che nelle loro brevi esistenze hanno già visto troppi orrori.